La ventitresima edizione della Notte dell'Orgoglio Marchigiano si svolgerà sabato 19 agosto dagli ore 21 in piazza Vittorio Emanuele II a Francavilla d'Ete. Il cuore della serata è la premiazione dei marchigiani talentuosi nati nella nostra regione. Saranno consegnate quest'anno 11 statuette divise tra varie categorie. Il premio speciale è dedicato all'orgoglio italiano. La serata, oltre a momenti dedicati alla premiazione, offrirà momenti di musica e cabaret con diversi ospiti illustri. Quest'anno siamo cresciuti ancora di più. La regione Marche è sempre con noi per collaborare, per dare sempre più lustro alla serata di gala. E per di più quest'anno abbiamo 109 comuni patrocinanti, che è stata una soddisfazione immensa, se calcoliamo le Marche 220 comuni, la metà quasi, che sono a conoscenza e credono in questa manifestazione importante a livello turistico-culturale per la nostra regione. Un applauso naturalmente al sindaco, a tutta l'amministrazione comunale e all'organizzazione. La notte dell'orgoglio marchigiano ha una sua storicità. Sono 25 anni, con una pausa però di due anni durante il Covid. È diventato ormai un punto fermo. Io ho sempre partecipato ed è un lustro non solo per la nostra terra, per il Fermano, ma a livello regionale. Questa naturalmente è un'occasione importante perché vengono messi in evidenza le eccellenze del nostro territorio e quindi è una terrazza sul mondo perché non è un evento solo a livello nazionale ma anche a livello internazionale. Noi come regione siamo sempre stati vicini a questo evento perché è un evento importante anche per il turismo. Siccome la regione nel 2021 ha puntato molto al turismo con l'ATIM, l'Agenzia per il Turismo e l'Internazionalizzazione, quindi questo è un evento che collima con il programma regionale.